Gli spazi di verde devono diventare una nuova corà, un punto dove ci si incontra, dove ci si relaziona e dove anche ci si rilassa. La Giunta Comunale ha approvato i progetti esecutivi per i lavori di riqualificazione dei parchi cittadini del Poggio ai Colli Aminei, dei fratelli De Filippo a Ponticelli e di San Gennaro alla Sanità. È un'area ricca di specie arboree e vegetali. Si è stato approvato in giunto il progetto esecutivo, adesso seguirà la fase che porterà al bando della gara e mi auguro che subito dopo l'estate possono cominciare anche l'attività di recupero, di riqualificazione sia del manto erboso verde sia anche delle strutture murarie. Sono previsti interventi per il rifacimento del verde, aree per i ragazzi e per lo sport, spazi per far passeggiare i cani. I lavori riguarderanno anche gli impianti di illuminazione, di irrigazione e di videosorveglianza. Da un lato riqualificare e recuperare i parchi che sono soggetti in questo momento ad approvazione di progetti e dall'altro cercare di individuare anche nuove aree che possono diventare una dimensione nuova da dare ai cittadini napoletani. Grazie